Elementi schiaccianti nei confronti di Peter Polverini, il 24enne San Giustinese accusato dell'omicidio di Katia Dello Marino, la 41enne uccisa a martellate nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2016 e poi abbandonata sul greto del torrente Afra San Sepolcro. Questo è quanto emergerebbe dall'esito degli esami richiesti dalla procura retina. Sono infatti state consegnate le risultanze delle analisi di laboratorio della genetista Isabella Spinetti sui riperti raccolti durante le indagini. Le tracce di sangue rinvenute sul martello ritenuto dagli inquirenti l'arma del delitto e nell'auto una Nissan X-Trail apparterebbero proprio alla vittima. Inoltre sarebbero concordanti anche le comparazioni tra il profilo genetico del giovane e il materiale biologico trovato sotto le unghie della donna e su di un fazzoletto. Infine sul corpo della vittima sarebbe stato trovato un bulbo pilifero appartenente a Peter Polverini. A breve potrebbero arrivare anche le risultanze della perizia difensiva sul quadro psicologico del presunto assassino richiesta dalla difesa del 24enne San Giustinese che si trova in carcere dallo scorso 16 settembre.